Ciao creatura Io sono Ecati Splendent e benvenuta, bentornata nel regno di Kusai ASMR le persone intorno a me mi ripetono spesso che sono sotto peso ma lo so già, lo so già, io sono nata sotto peso quindi è normale, tra virgolette, per me esserlo cioè sono nata predisposta per esserlo, credo però questa cosa non è che mi piace tantissimo perché comunque vorrei essere più muscolosa e più tonica quindi cosa faccio adesso mi sto mettendo a fare attività fisica perché appunto per modificare per me solo per me, non perché qualcuno me l'ha detto ma solo per rendermi più bella per me stessa quindi è giusto cambiare se si vuole cambiare per se stessi e però non mi sento proprio carica di energie e ok, sì io non faccio colazione ok, sì a volte salto i pasti per un motivo o per un altro anche se cerco sempre di non saltarli però a volte capita che sono io non sono a casa non ho avuto il tempo di prepararmi il pranzo e perché sennò perdevo il treno perché non ha suonato la sveglia io principalmente diciamo che la colazione non la faccio mi si è presentata questa occasione e di provare questi prodotti e quindi ho detto wow sembra fatto apposta per questo momento e quindi anche se non c'entra molto diciamo con il mio canale però ho deciso di accettare questa collaborazione per appunto testare questi prodotti così magari potrebbero servire anche a te creatura perché no io adesso te li mostro andiamo a vederli insieme uno per uno e poi io li testerò in questo periodo e poi ti farò sapere che cosa ne penso se mi è cambiato qualcosa se ne basta la pena oppure no allora ho scritto tutto anche per dire le cose nel dettaglio come devono essere e sto diventando professionale creatura sì allora sicuramente il brand l'ho visto nel titolo è shape republic allora io ho pensato ho preso varie cose che mi facevano voglia sul sito e anche che potevano servirmi giustamente perché se devo provarlo devo fare le cose fatte bene lo sai creatura che sono pignola questo che è lo slim shake slim shake mango e passion fruit cioè mango il frutto della passione questi sono tutte polverine che servono per fare tipo milkshake e proteici ma dentro oltre hanno un sacco di cose anche un sacco di vitamine cose che di solito io non riesco ad assimilare dai cibi perché mangio a quanto pare mangio troppo poco quindi ho pensato che fossero perfetti per me allora questo è slim shake ho preso gusto ok questo passion fruit e poi ho preso cocco e cioccolato ovviamente i tutti i gusti come cocco li ho presi dove c'era cocco io dicevo ehm mi serve quello ops però hanno un packaging troppo carino tipo questo così dorato è molto bello molto fancy direi ovviamente trovi tutti gli ingredienti e e anche come utilizzarlo comunque poi io te lo dico ha un sacco di vitamina A T3 E C B1 B2 B6 B12 K non spero neanche esistesse la vitamina K vabbè poi ha un sacco di altre cose dentro il calcio il fosforo il potassio il ferro lo zinco il rame il selenio il magnesio il magnesio mi serve però mi serve tutto di queste cose qua invece questo qui ha il cocco ha questo semplice packaging azzurro molto carino anche questo manco passion fruit e cocco e cioccolato sono per sostituire i pasti e da quello che ho capito per mantenere il proprio peso bisogna sostituire un pasto solo invece se si vuole perdere peso sostituisci i tuoi pasti ma io non l'ho fatto non l'ho preso per perdere peso perché anche no ma è l'opposto in realtà per integrare cose nella mia alimentazione infatti ho preso questi che vorrei con il quale vorrei sostituire la colazione che già non faccio quindi e l'altro che è questo da utilizzare come snack diciamo ma dopo lo andiamo a vedere e anche questo questo è cocco cioccolato bianco attenzione qui non si scherza eh questo non è sostitutivo del pasto lo farò come merenda ecco lo berrò come merenda allora eh tornando a quello a questi qui che sono sostitutivi del pasto se guardo in basso è perché sto leggendo la mia scaletta per non perdermi perché sai che io mi perdo in chiacchiere come sto già facendo adesso tra l'altro allora questo abbiamo detto che è perfetto quando si è di fretta o con molti impegni non si vuole rinunciare ad un pasto bilanciato e oppure può anche essere sotto come merenda ma io lo voglio usare come colazione ehm che spesso appunto adesso sto uscendo prendendo il treno in giro e quindi o me lo bevo prima o me lo bevo anche fuori e appunto eh perché ehm è comodo anche molto comodo che me lo porto via nello zaino e via poi dici un minuto per prepararlo quindi 200 ml di latte o bevando vegetale non acqua assolutamente non acqua più 3 cucchiai di polvere di questo prodotto qui più un cucchiai di olio per una quota di grassi buoni ok e poi dice sazia a lungo perché contiene moltissime fibre e proteine quindi mi bevo questo al mattino e duro fino a mezzogiorno secondo me poi vedremo e poi dice che ci sono più di 10 gusti deliziosi c'è cocco quindi quello già è top con la apposita bottiglia eviti grumi e ottieni uno shake caimuso e ho preso anche la bottiglia ovviamente opzioni vegane senza lattosio e senza glutine disponibili ottimo anche questo poi ho pensato a te creatura e ho preso queste che non so se non si vede nulla qua si vede si e sono le slip drops vaniglia ole allora queste sono gocce di melatonina gusto miele e vaniglia che servono appunto per conciliare il sonno ma ho letto delle cose molto interessanti che adesso andiamo a vedere insieme e per quello ho detto non devo provarle perfetto per le persone che non riescono a dormire già immaginate mi prendi queste goccette qui poi mi guardo un video e sembrare poi buonanotte ecate buonanotte allora dice melatonina in gocce in formulazione 100% vegani e biologiche poi rispetto alla classica melatonina contiene anche estratti di lavanda e lupolo più vitamina B6 e niacina tutti questi componenti aiutano sia a far addormentare prima che a riposare meglio e in modo continuato durante la notte questo non so troppo provare poi dice perfetta per chi non ama prendere pastiglie ha un dosatore in vetro incluso per misurare esattamente i 1,5 mg necessari di prodotto mg 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 marda usa uso allora 1,5 mg di liquido in un bicchiere d'acqua prima di dormire mescolando bene aroma molto delicato di vaniglia e miele senza zucchero si può prendere anche dopo aver lavato i denti ecco questa cosa che non ha lo zucchero e si può prendere anche dopo aver lavato i denti a me è top perchè avevo visto delle altre tipo caramelle che vendevano in farmacia che ho visto sponsorizzare un po' anche da alcuni youtuber e che sono appunto queste caramelle di melatonina che le mangiucchi insomma la sera prima di dormire ma hanno lo zucchero dentro e tu dici sono buone grazie al cavolo hanno lo zucchero dentro invece queste no e lì invece se quanto zucchero introduci cioè io sono mi sta sul cavolo a me lo zucchero vabbè e poi dice non crea solifazione cioè ottimo anche questa cosa che è top che buon profumo ecco qua c'è una tacchetta sulla sul contacucce che buon profumo oddio sa di fiori sa di miele di mille fiori mille fiori si chiama che bello che bello anche da stasera andrò a provarle poi ti farò sapere come come mi son trovata poi c'è il protein whey che appunto è questo al cocco cioccolato bianco oh mio dio vedo l'ora di provarla che è shake proteico a base di proteine del siero di latte ideale per gli sportivi o per chi non assume abbastanza proteine con l'alimentazione preparazione 3 cucchiai di polvere in 200 ml di latte bevanda vegetale o acqua questa volta si può fare anche con l'acqua e io voglio provarlo proprio con l'acqua shaker nella bottiglia insomma quella dopo te la mostro per evitare i grumi e rendere il frullato super cremoso si può assumere come spuntino merenda sana io infatti lo voglio assumere come merenda che cosa che non faccio la merenda si oppure a volte mangio stanno al computer giocando ai rose of the storm mangio i cracker o delle patatine insomma cose che sarebbe meglio non mangiare ehm poi dice che le proteine si possono cuocere per preparare ricette fit senza perdere le proprietà pancake tortini porridge yogurt sedite sedici creatura proviamo a fare una ricettina insieme mettimi tanti like e scrivimelo nei commenti se vuoi che provo a fare un pancake un tortino con questo dice che è disponibile anche in versione vegana spiazzi poi c'è una cosa che appena l'ho visto cos'è? devo averla ovvero questo sembra la confezione di un gelato ma non è un gelato si chiama high protein cookie 2 la pasta per fare biscotti tipo quella degli americani che fanno i cookies e si mangiano la pasta cruda e io dico ogni volta che schifo ma la vorrei provare adesso puoi ma questo è proprio un impasto per biscotti che si può mangiare anche crudo senza causare mal di pancia questo è importante proprio come nei film americani ma questo ha molte più proteine e molti meno zuccheri e grassi risulta quindi più digeribile non vedo lo proviamo subito io lo voglio provare subito mi va troppa voglia allora preparazione 120 ml di latte direttamente nella confezione aggiungi poco a poco mescolando con un cucchiaio fino ad ottenere la consistenza dell'impasto è possibile aggiungere più latte a piacere pronto da gustare crudo lo proverei subito lo proviamo subito vero creatura lascia dei like e poi dice per preparare dei biscotti ma ti pare che arrivo a preparare dei biscotti questo non lo schiaffo subito così cioè vabbè ma fate sul serio c'è anche chi prepara dei biscotti e non lo mangia così io non ci credo comunque per preparare dei biscotti realizzare palline di impasto e schiacciarla leggermente su una tenda foderata e fornare a 180 gradi per 10-15 minuti a seconda del proprio forno indovina io che cosa ho scelto di gusto? no non è cocco ma è triplo cioccolato oddio wow oddio il profumo è buonissimo è così si presenta così una polvere cioccolatosa l'ho inalata anche è buonissimo mi sono fatta una striscia di di cacao ma a questo punto è mattina io non ho fatto colazione direi che è giunto il momento per farsi uno di questi ingredienti li ho tutti cosa andrò a scegliere? coconut e cioè cocco cioccolato o max sto qua anche a chiederlo però non ti ho fatto vedere tutto si sono troppo 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 voglia di assaggiare tutto ti faccio vedere le ultime due cose poi andiamo a preparare uno shake lo assaggio poi c'è questo che è una crema spalmabile una nocciola con proteine di siero di latte con dolce e piccante e e l'assaggiamo subito che buon profumo sa proprio di nocciole ma dai se vado col dito è troppo no allora adesso vado a prendere un cucchiaino voilà il profumo mi è andato in mente il profumo di eh nocciole e caramello il profumo di caramello il profumo di nocciole e caramello salato nella mia testa poi non so eh comunque ho la bottiglia anche ho fatto così vado a lavarla tolgo tutte queste scartoffi che ci sono all'interno dentro ho una specie di palla e ehm ho fatto così vado a lavarla che non so si vede fatta tipo a spirale si qua si vede che serve appunto per shakerare e mischiare e sciogliere bene le polveri vabbè tipo una molla ehm ti dico la sincera la verità ecco che io volevo solo farti vedere i prodotti però adesso appena li ho aperti e tutto ho detto non saresti riuscita a resistere anche tu creatura quindi capiscimi eccoci qua allora ho preso il latte già sono già 200 ml e io ho scelto questo olio qui che è l'olio vabbè non voglio far vedere la marca perché tutti sanno dove faccio la spesa però è olio di semi di mais e ovviamente ehm il nostro slim shake che andiamo ad aprire l'altro la sono lavata ho tolto la pallina perché fa rumore brutto io non so quanto pieni dovevano essere sono andata un po' a caso va bene sarà mia colazione per tanti tanti giorni l'alte nero con quello al mango ma cosa sto dicendo quello al cocco finirò subito poi mettiamo il latte ok e poi andiamo a mettere un cucchiaio di olio nel momento in cui ecco te non devi tremare d'accordo se no facciamo un macello ok 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 adesso devo andare a shakerare quindi questo pezzo lo taglierò perché sarà un super rumoroso orribile no aspetta vediamo se è rumoroso orribile davvero si è rumoroso orribile a dopo per una volta che in un video mi metto a rossetto è perché non avevo calcolato che avrei associato però vabbè ci siamo ho shakerato e si è tipo montato da 200 è andato al 300 e non vedo l'ora di associarlo si è sciolto completamente tutto bene quindi ottimo profumo profumo esattamente di milkshake che mi prendevo in gelateria dove praticamente aggiungevano al gelato il latte e frullavano tutto e ha lo stesso profumo profumo è buono mi fa strano come sia possibile che con le mie forze che non ho forza credo che sia proprio la pallina dentro ha creato tutta una cosa spumosa cremosa forse anche per quello che c'è all'interno nella polvere mi piace come colazione questo ok me lo finisco dopo perché voglio assaggiare altre cose ho portato dell'altro latte per assaggiare questa quindi andiamo a mettere 120 ml di latte all'interno della polvere della pasta per i biscotti dell'impasto non si vede nulla andava messo poco a poco ops e vabbè l'ho pensato adesso sto facendo delle bolle ho sbagliato ho sbagliato metterlo poco a poco ma sono emozionato per il video vabbè ma mescolerò pian piano pian piano pian piano tanto lo sai creatura che a me riesce tutto anche se faccio dei fail perché le divinità sono così cioè sembra gelato voglio mangiarlo adesso anche se non è tutto mescolato fai l'errore come me di buttare subito il latte don't worry continuando a mescolare si risolve la situazione in realtà vedi ho sbagliato solo perché per mostrarti che non esiste sbagliare ci sistema sempre tutto con un po' di santa pazienza creature allora il triplo cioccolato si sente tutto il profumo è una cosa wow sembra quello gelato cos'era il magnum double chocolate ma quello era double questo è triplo c'è ancora meglio che spettacolo ma mi è uscita così sembra nutella non mi ero accorta ci fossero dei pezzetti di cioccolato dentro si ha delle gocce di cioccolato non sono sporche mi sono venuti per i la pelle d'oca come si chiama ok io me lo immaginavo diverso come impasto mi immaginavo proprio tipo a impasto a pallina o forse e che ho messo sotto l'ante ho messo troppo lante cioè nel senso era 120 ml però dovevo metterlo piano piano e forse così mi sarei dovuta regolare con la consistenza però non importa tanto io non avevo idea di la mia idea non era quella di fare le palline e fare i biscotti quindi me lo posso mangiare tipo così comunque la consistenza che mi è uscita è questa ok io vado all'assaggio ci sono anche dei pezzi vedi delle gocce di cioccolata wow si è un misto tra l'impasto quello per fare i muffin e e della crema spalmabile è un gelato anche molto sciolto si c'è esattamente l'impasto per i biscotti crudo però questo non fa venire mal di pancia che buono wow è buonissimo è buono è buono penso che erano molto queste cose e sono anche in preciclo comunque per giornate tristi credo di essermi sporchetta tantissimo lo consiglio per le giornate tristi mamma mia mi sento già molto più felice beh a questo punto facciamolo lo assaggio anche qui madonna quell'impasto per i biscotti non riesco a smettere di guardarlo mi sono innamorata allora so con chi sposarmi adesso con quell'impasto per i biscotti è buona sta da una crema spalmabile più naturale nel senso come se io adesso mi mettessi a frullare le nocciole quindi ha un gusto meno artificiale ecco molto più ma questa è troppo buona devo mangiarle ancora l'ultima l'ultima cucchiaiata lo giuro lo giuro ok è resistibile che buona mamma mia basta meglio che la chiuda se no me la mangio tutta adesso stupendo veramente wow triplo cioccolato mio dio sono innamorata dov'è il mio mix shake è lì ok dopo me lo finisco spero che questo video ti abbia fatto rilassare e ti abbia fatto conoscere qualcosa di nuovo e che potrebbe esserti utile fammi sapere se hai già provato questi prodotti e che cosa ne pensi e se sono tutta sporca di cioccolata ti chiedo scusa ma non era prevista questa cosa ti lascio comunque nell'info box e forse anche nel primo commento perché mi piace ho visto altre che mettono il link nel primo commento e mi piace questa cosa voglio farla anch'io appunto ti lascio il link utile nell'info box ultima cosa mi sono dimenticata all'interno mi ho messo anche questa questi due campioncini di crema per una pelle più brillante alla vitamina C io non me l'aspettavo è stato super cute trovare anche la crema il piccolo campioncino di crema alla vitamina C guarda quanto è piccolo con questo io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura